I danni causati dalle catastrofi naturali non si possono azzerare, ma si possono ridurre e si possono gestire. Per farlo è necessario l'aiuto e la preparazione di tutti. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile da anni è fortemente impegnato sul fronte della prevenzione. Studia e analizza i fenomeni naturali, individua gli interventi strutturali per ridurre i rischi sul territorio. Pianifica come meglio fronteggiare le calamità. Voglio ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile insieme a tutti gli altri organizzatori e promotori di questa giornata e i tanti che hanno dedicato e dedicheranno oggi il proprio tempo e le proprie energie a questa importante iniziativa. Voi volontari siete la forza silenziosa dell'Italia che risponde ogni volta che c'è bisogno. L'Italia vi ammira e oggi vuole imparare da voi. Grazie.